E bentornati sul mio canale, sono abbastanza sofferente per chi mi conosce, mi segue su altri social, sa che sto passando un periodo un po' così a livello fisico perché ho dei problemi alla schiena e quindi non sto molto bene, infatti anche stare seduto non mi aiuta per niente. Ma ci tenevo assolutamente a fare un nuovo video con voi ragazzi, il male che c'ho è tremendo. Allora, sono arrivati dei nuovi pacchi, fra l'altro c'ho una merdina da scartare, una cosa particolare che adesso andremo ad aprire insieme che si chiama Cuti Tuti, Cuti Tutis, una roba del genere. Allora, adesso andremo a vedere di cosa si tratta, in più c'ho due pacchi, io so cosa contengono, questo fra la Tilly, gentilmente, amore mio, Tilly! Cioè, la cagnolina che continua a giocare col gatto e fa casino, ne? Allora, dicevo, soprattutto questo pacco che è piccoletto ma è bello pesante, è bello stipato di roba, so bene che cos'è. Allora, io direi di andare ad aprire prima questo perché quello è un pochino più normale, diciamo, perché anche qua so che cosa c'è. Se ogni tanto vi vedete fare delle smorfie di dolore non vi preoccupate ma sono semplicemente delle fitte che sento alla gamba e alla schiena. Allora, dicevo, qua so già bene cosa trovarci e vi faccio vedere i miei ultimi acquisti. Tanto voglio dire, ogni giorno ce n'è una nuova. Chi mi segue sul canale lo sa che io ormai sono abituato a ricevere pacchi tutti i giorni. E allora, beh, sì, è super imballato anche perché io ho ricevuto un altro pacco da la stessa venditrice e mi è arrivata una cosa rotta. Quindi, giustamente, stavolta ci ha pensato bene di imballare le cose meglio. Piccola punta di sarcasmo. Allora, va bene. Abbiamo qui, non è una bambola completa, fra l'altro adesso probabilmente con riflesso non si vedrà neanche bene, ma è la testa della Rose White Mio, è una Pur Nemo. Io ho dei corpi a Zon che ho acquistato dal Giappone tramite la mia amica Daniela e avevo bisogno di cercare, avevo bisogno, volevo cercare delle testoline da poterci mettere sopra questi corpi. Ho trovato appunto questa ragazza da cui avevo già comprato e scambiato in passato e quindi ho voluto prendere questa testolina qua. Anche se non mi convince tantissimo, ma io tanto so che c'è già la mia amica Valeria che è pronta eventualmente a adottarla. Quindi, allora, aveva la scatola questa ragazza, quindi me l'ha spedita con la scatola. Vedo che mi ha messo dentro anche dei regalini. Mi ha messo dentro due gonne. Grazie, grazie. E poi dentro c'è anche, voi direte ma che cos'è, è una gamba di una bambola perché, appunto, dicevo prima che mi è arrivato, mi è arrivata un altro pacco, sempre da questa venditrice, all'interno c'era una bambola che mi è arrivata con un piede rotto, con un gancio rotto. Quindi lei è riuscita a procurarsi il gancio da un'altra ragazza. In realtà, invece di staccarmi e di mandarmi proprio tutto il gancio, ha preferito mandarmi l'intera gamba. Tanto i corpi a zone si smontano e si possono rimontare. Allora, poi la testolina è questa. È veramente molto carina. Effettivamente è un colore strano perché non riuscivo a capire. Perché ha dei riflessi. A volte sembra bianca-argento, a volte bionda, a volte su rosa. Ma è molto, molto carina. Mi piaceva, poi ripeto, c'è sicuramente la mia amica Valeria che nel caso in cui io non la volessi è pronta ad adottarla. Per adesso però, Valeria, aspetta perché me la spupazzo un pochino. Bene, detto ciò, io direi di proseguire e di andare avanti ad aprire questa roba stranissima che mi è arrivata ieri e che eravate tutti curiosi di vedere insieme a me. Ragazzi, io lo so che questo video è abbastanza sottotono. Di solito sono molto più allegro, molto più spumeggiante, ma credetemi, non sto per niente bene. Ci tenevo comunque a fare un video, nonostante non sia nelle forme fisiche più adatte. Quindi portate pazienza. Spero di tornare più carico di prima. Allora, adesso proviamo ad aprire innanzitutto questo bagaglio qua. Quanto spreco di carta, di plastica che c'è, mamma mia. Allora, giustamente voi dite, ma se tu compri, loro imballano, voglio dire, smetti di comprare, se smettono di comprare loro falliscono, tipo. Ma cos'è? Oddio! È una roba! Ma io non capivo! Non avevo capito bene la consistenza di questo essere, di questo misto rospo cacchina. Beh! Mi fa un po' senso! Cioè, non è proprio squish squish, però non me l'aspettavo che fosse così molloso, diciamo. Allora, prima di aprire diamo un'occhiata ai vari librettini che ci sono all'interno. Allora, in realtà si possono trovare uno di questi simpatici animaletti. Io ne ho già uno, ma l'avevo preso da un'altra parte, non c'era tutto questo abbaradan qua. Io spero vivamente di trovare l'unicorno, però in realtà tutti gli animaletti hanno un corno. Però l'unicorno vero e proprio il CT176 Lighting si chiama. Però ci sono altre cose anche carine, dai, simpatiche. Non lo so se è il colore, perché anche questo qua cambia. Le ho viste di vari colori. Non so se in qualche modo ci possa essere una differenza di colore. Allora, qui ci sono addirittura il libretto illustrativo. Dice di tagliarlo con le forme, tagliare e aprire. Ma perché? Se non vuoi tagliare il contenitorello slime, togli la pellicola sul fondo. Scusate, perché tagliare sto coso quando c'è un simpatico coso da togliere? Allora, spremi il contenitorello slime per rimuovere il pacchetto. Una sorpresa, Cudi. Che tipo di slime hai trovato? Allora, praticamente c'è da togliere. Io so che anche la mia amica Cecilia era curiosa di vedere. Allora, c'è questa parte qua che è incollata in realtà. Sì, non è che si toglie proprio... Ecco! Allora, c'è questa parte che si toglie e poi bisogna... Ma che schifo è? Ragazzi, posso dire una cosa? Posso dire una cosa che fa veramente, veramente vomitare sto coso. Che sembra il vomito del mio gatto quando mangia la scatoletta di prima mattina. Ragazzi, è veramente qualcosa di... Non profuma neanche. Fa semplicemente schifo. Scusate, ma fa veramente... Ma cos'è sta roba? È veramente, veramente pessima. Va, allora. Però qua dentro c'è l'animaletto. Adesso andiamo a vedere. Vedo qualcosa di un colore che mi piace. Non è quello che volevo. Però è tanto caruccio. È un pipistrellino viola. Dai, devo dire che sono anche abbastanza contento. Non è quello che volevo. Però è caruccio, è caruccio. Sì. Allora, c'è da dire. Piccola premessa. Io l'ho comprato in sconto su Amazon a 11 euro. Capisco che c'è sempre il wow dell'unboxing. Queste cose blind. A scatola chiusa. Però questo fa veramente... Cioè, ragazzi, veramente. Io non so se riuscite a vedere quanto schifo faccia. Fa veramente, veramente schifo. Io penso che butterò tutto anche questa cosa che mi fa venire il vomito. Beh, buttiamo via tutto. E terrò, ovviamente, lui, che è molto carino. Si gira anche la testa, eh. È carino. No, no, ma sono carini. Solo che... Cioè, 5-6 euro. Ecco, se in realtà togliessero tutto questo ambaradana vomitevole e mettessero solamente, cioè, un sacchettino anche chiuso, cioè, anche all'oscuro, con questo qua sarei stato molto più contento. Allora, lui fa parte della collezione Sky Blue Dudes ed è il CT158 Violet, si chiama. Sono in due pipistrelli. Il maschietto e la femminuccia, probabilmente. No, carini. Ripeto, poteva andarmi meglio, poteva andarmi peggio, quindi sono abbastanza soddisfatto. Carino. Se lo ritrovo in offerta, in realtà, lo ricompro. Ma non per quella schifissima cosa oscena che è uscita. Va bene, ragazzi. Adesso apriamo il vero pacco. Bomba. Che adesso vi faccio vedere quanta roba bella esce da quel pacco. Allora, ripeto, perdonatemi se il video, rispetto ai miei standard, è un po' sottotono, ma non sto bene. Allora, questo è piccolo, ma ben riempito di roba bella. Allora, imballato, per adesso chiuso super bene. Io, in realtà, ho una gran paura quando è così chiuso la roba, perché io ho sempre paura di tagliare. Spero che mi sentiate, perché in realtà mi sto rendendo conto che sto tenendo anche il tono e la voce abbastanza basso. Comunque. Allora, prima cosa, che è un regalino. Ma me l'aveva detto la ragazza, è stata molto carina. Sono delle scarpette che aveva comprato per queste bambole. Ha detto, giustamente, io vendo le bambole, le scarpette le avevo comprate per loro. Mi fa piacere che le scarpe seguano le bambole. Non si dice mai di no a un regalo, non si dice mai di no a delle scarpe. Quindi direi che siamo molto contenti. Allora, piccola premessa. Oddio, c'è già qualcuno decapitato. Piccola premessa. Questo è un lotto che io ho visto su Ebay. Ho contattato poi la ragazza, perché la conosco su Facebook. E, ragazze, me le sono aggiudicate a un prezzo veramente, 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 veramente vantaggioso. Veramente vantaggioso. E quindi non poteva assolutamente di no e le ho prese a un prezzo regalate. Fra l'altro, io non credo neanche che le torno tutte. Una la vorrei regalare alla mia amica Cecilia, se le piace. E le altre, probabilmente, posso anche, un altro paio, posso anche vendere per ammortizzare la spesa. Però, ragazzi, cioè, guardate. Allora, è un pacco pieno di licca, ok? Per chi non le conosce, poi magari googlate. Comunque sono delle bambole giapponesi della Takara. Molto, molto belle, veramente. Veramente, molto carino. Questa, non so se è di quelle, perché sembra un modello di quelle che col calore cambiano. No, però ha dei capelli bellissimi, veramente. A me piacciono un sacco le... Eh, poi, adesso, guardate la bellezza che arriva, ragazze. Cioè, bellissimo, bellissime. Sono contentissimo. Sono, fra l'altro, tenute super, super bene. Aspettate che mi sofferso pure la scarpetta. Sono veramente tenute bene. Io devo assolutamente ringraziare la ragazza, perché sono bellissime. Tenute benissimo. E, ripeto, ha un prezzo... Cioè, regalate. Lo ripeto, lo ripeto ancora. Ha un prezzo veramente incredibile. Allora, mi inquieta il fatto che c'è una testa vacante. Non ho capito se si è staccata o era una testa in più. Allora, poi, continuiamo. No, devo fare assolutamente i complimenti a questa ragazza, perché veramente... Ecco, fra l'altro, c'è... Un paio di loro avevano anche il corpo... Ah, questo è un po' rotto, mi sa. Ma in realtà non so neanche se sono originali i corpi. Spero di sì, perché non amo le cose fake. Però... Cioè, guardate che amorina. E qui, un paio di loro hanno il corpo, pur nemo. No, no, ma sono veramente tanto, tanto carine, bellissime. Veramente, veramente molto, molto belle. Sono veramente tanto contento. Ma non sono finite, perché ne sono tante. Cioè, veramente, guardate lei. No, no, ragazzi, io sono veramente... Poi, guardate che brava che ha imballato tutto. No, no, è stata veramente brava. Le farò i complimenti, la ringrazierò. Perché, veramente, cioè... Ma poi anche i vestitini sono una... Cioè, sono contentissimo. Veramente. Sono troppo, troppo contento. Veramente. Cioè, sono felice perché ero giù. Oggi ho fatto un'altra visita medica. Quindi era abbastanza giù. Ma sono veramente, veramente contento. Per queste bellezze. Ripeto, per un prezzo regalato. Complete di tutto. Vestiti, scarpe. No, veramente. Cioè, ragazzi... Cioè, guardate anche lei che bella. No, no, no. Ma io sono veramente felicissimo, ragazzi. Ma poi anche i vestiti, eh. Sono molto, molto carini. Veramente. Non sono finite, ragazze. Non sono finite. Guardate. No, no. Sono proprio, proprio contento. Questo ha un bel colore di blu elettrico. Non so se si riesce a vedere. Ma anche questi maglioncini sono un amore. Veramente. Questo poi fatto all'uncinetto così è veramente, veramente squisito. Le scarpette. No, no, no. Sono veramente molto, molto contento. Sì, c'è una testa in più, in realtà. Quindi c'è una testa in più. Quindi andiamo ad aprire l'ultima. E poi apriamo anche la testa. Ma ragazzi, cioè, guardate che bella. Guardate che bella. Ma poi tenute benissimo. Veramente. Cioè, devo fare tantissimi complimenti alla ragazza. Veramente, veramente, tanti complimenti. Raramente sono così soddisfatto e contento. Sì, c'è una testa in più. Di un'altra licca. Sono veramente contento perché, dicevo, raramente si riescono a trovare comunque persone oneste. Io gli ho voluto, gli ho dato anche qualche euro in più rispetto a quello che dovevo pagare. Perché comunque ho riconosciuto che stavo pagando effettivamente un prezzo ottimo. Ma non solo, sono veramente, veramente contento di tutto. Cioè, ragazze, veramente. Cioè, io adesso non credo neanche di riuscire a tenerle tutte in mano. Perché sono veramente, cioè, tantissimo. Oddio, ho scampato anche la scarpetta. Sono veramente, veramente tante. Cioè, guardate, guardate, guardate. Sono contentissimo, veramente. Molto, molto contento. Allora, ragazzi, ci tenevo a fare comunque questo video. Ripeto, anche se sono un po' così, abbastanza a pezzi. Però ci tenevo. E niente, dai, facciamo che mi sono anche dilungato. Di solito sono più veloce. E ho bisogno di stendermi, di mettermi sul letto, a riposarmi. Però, ripeto, ci tenevo comunque a fare un video e a condividerlo con voi. Un bacione a tutti. Grazie perché mi supportate sempre. E grazie per avermi sopportato in questo video così giù di tono. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.